Ancora questa fissa di correre la notte? Perché sei qui? Che vuoi? Non lo so. Anch'io correvo di notte. Quando ho iniziato correre era l'unica cosa che mi faceva stare bene. Poi sono arrivati i successi, le vittorie. Le cose sono cambiate. Quindi dovrei essere contenta di aver perso gli italiani? No, tu non hai perso. Non ti sei proprio presentata. Che è peggio? Cioè fammi capire, tu sei venuta qui per dirmi che sono peggio di quello che pensavi. Sono venuta a dirti che sei molto meglio di quello che credi. Le cose che ti ho detto le ho dette perché avevo paura di te. Perché hai talento. E soprattutto hai qualcosa che io non ho mai avuto. Non qualificato agli europei? Un'amica. Nessuno mi ha mai difesa come Marzia ha fatto con te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti